L'estate è entrata nel vivo e sui banchi del turismo calabrese si tirano le prime somme. I numeri ufficiali arriveranno come sempre a fine stagione, ma per capire l'andamento del flusso turistico nella nostra regione basta fare un giro nelle località di maggiore attrattiva. La nostra inchiesta estiva parte dalla costa degli dei di Vibo Valencia. Spiagge, strutture ricettive e ristoranti fanno da termometro all'estate che sarà. A sentire gli imprenditori del settore le presenze in linea di massima non sono né diminuite né aumentate. Mantengono lo standard nazionale ma solo grazie ad una riduzione sensibile dei prezzi. Una strategia necessaria per competere con i mercati esteri sempre più concorrenziali in termini di costi e di servizi. Oggi come oggi è facilissimo prendere un aereo e è più facile arrivare in Egitto o in Tunisia o in Croazia o alle Canarie che da Milano venire in Calabria. I turisti seppur attirati dalle splendide coste calabresi e vibonesi continuano quindi a scegliere di trascorrere le proprie vacanze altrove ed i motivi per gli imprenditori di casa nostra sono facilmente rintracciabili. La difficoltà sta nel non accompagnare gli sforzi degli imprenditori privati che devono fare questi sforzi e non possono piangere sempre che altri devono dare una mano ma gli imprenditori non possono certamente né pulire le strade né fare le strade né abbellire il decoro delle città né creare quella rete di servizi collaterali che fa la vacanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti